La didattica per scenari è una metodologia educativa che utilizza situazioni ipotetiche o reali, chiamate appunto scenari, per promuovere l'apprendimento attivo e coinvolgente. Questa metodologia si basa sul principio che gli studenti apprendono meglio quando sono coinvolti in attività che simulano situazioni autentiche, permettendo loro di applicare conoscenze e competenze in contesti realistici. Ecco le caratteristiche principali della didattica per scenari. 1. Approccio centrato sullo studente. Gli studenti sono al centro del processo di apprendimento e assumono un ruolo attivo nella risoluzione dei problemi presentati dagli scenari. 2. Contesti realistici. Gli scenari sono progettati per riflettere situazioni del mondo reale che gli studenti potrebbero incontrare nella loro vita quotidiana. 3. Apprendimento. Basato su problemi. Gli scenari presentano problemi o sfide che gli studenti devono affrontare e risolvere, promuovendo il pensiero critico e le abilità di problem solving. 4. Multidisciplinarietà. Gli scenari spesso richiedono l'integrazione di conoscenze e competenze da diverse discipline, favorendo un approccio olistico all'apprendimento. 5. Collaborazione. Gli studenti lavorano spesso in gruppi, migliorando le loro competenze di lavoro di squadra e comunicazione. Vediamo ora in che modo strutturare le fasi della didattica per scenari. 1. Progettazione dello scenario. Identificare gli obiettivi di apprendimento. Successivamente creare lo scenario. Sviluppare una situazione che sia rilevante, autentica e stimolante per gli studenti. Infine, precisare i dettagli dello scenario. Fornire con precisione tutti i dettagli necessari per comprendere la situazione, inclusi contesto, personaggi, problemi da risolvere e risorse disponibili. 2. Introduzione dello scenario. Presentazione agli studenti. Introdurre lo scenario e spiegare gli obiettivi dell'attività. Organizzazione del lavoro di gruppo. Formare gruppi di lavoro e distribuire i ruoli, se necessario. 3. Sviluppo dell'attività. Ricerca e analisi. Gli studenti raccolgono informazioni, analizzano i dati e discutono possibili soluzioni. Pianificazione delle soluzioni. I ragazzi e le ragazze progettano piani d'azione o strategie per risolvere i problemi presentati dallo scenario. 4. Implementazione e risoluzione. Applicazione delle soluzioni. Gli studenti mettono in pratica le soluzioni pianificate, spesso attraverso simulazioni o attività pratiche. Discussione e valutazione. È fondamentale valutare i risultati ottenuti e riflettere sul processo di risoluzione. 5. Feedback e revisione. Feedback degli insegnanti. Gli insegnanti forniscono feedback dettagliato sulle prestazioni degli studenti. Autovalutazione degli studenti. Gli studenti riflettono sulle loro performance e identificano aree di miglioramento. Revisione dello scenario. Aggiornare e migliorare lo scenario per future iterazioni, se necessario. Vantaggi della didattica per scenari. Coinvolgimento attivo. Gli studenti sono più coinvolti e motivati poiché vedono l'applicabilità pratica delle loro conoscenze. Sviluppo di competenze trasversali. Miglioramento delle capacità di problem solving, pensiero critico, collaborazione e comunicazione. Apprendimento profondo. Promuove una comprensione profonda e duratura dei contenuti, poiché gli studenti devono applicare le conoscenze in contesti realistici. Preparazione al mondo del lavoro. Gli scenari realistici preparano gli studenti ad affrontare situazioni complesse anche nel loro futuro professionale. Sfide della didattica per scenari. Tempo e risorse. La progettazione e implementazione di scenari richiede tempo e risorse considerevoli. Valutazione. Valutare l'apprendimento degli studenti in contesti di scenario può essere complesso e richiede criteri di valutazione chiari e dettagliati. Adattabilità. Gli scenari devono essere costantemente aggiornati per rimanere rilevanti e in linea con le evoluzioni del mondo reale e delle discipline specifiche. Eccoci quindi alle conclusioni. La didattica per scenari rappresenta un potente strumento per promuovere un apprendimento attivo, coinvolgente e autentico. Quando ben progettata e implementata, questa metodologia può offrire agli studenti esperienze di apprendimento significative che li preparano efficacemente per le sfide del mondo reale.